Tanti auguri a te! Discorso! Ok, d'accordo, va bene. Gli ultimi anni sono stati tosti, di certo. Però sono felice. E questo grazie a ognuno di voi. Sono il più fortunato del mondo. Un desiderio, baby. Wade Wilson? Ehi, chi sei? E dovrei spaventarmi. Il pegging non è una novità per me, caro. Ma per la Disney, sì. Signor Wilson, a quanto pare te le sei fatte addosso mentre eri svenuto. Non sono mai svenuto. Chi sei tu? E perché sono qui? Vieni con me. Wade, tu sei speciale. Hai una chance. Diventare il più eroico tra gli eroi. So dove vuoi andare a parare, sensei. Il tuo Cinematic Universe sta per cambiare. Io sono il Messia. Io sono il... Gesù della Marvel. Aiutami, ma che cazzo? Adoro questa parte. Ferma qui! Non stare lì, impalato. Dammi una mano ad alzarmi. No, anzi, faccio da solo. Grazie mille! No, anzi, faccio da solo. 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 Grazie.